Se prendiamo i dati di gara 5, all'elà del fatto che mancava George Hill per i Pacers, Indiana a 6 minuti dalla fine era ancora sul meno 4, era sul meno 4 e ha rischiato diciamo di stare dentro una partita persa solo di 10, avendo tirato 12 su 41 nel primo tempo, 36% alla fine, 19 palle perse e 14 errori ai tiri liberi. Bene no? Beh, intanto è entrato Minimelo, momento chiave di partita e serie, e persino Rihanna se l'è presa con lui dicendo fai canestro anziché gavazzare lei dai club, dove va lei a New York, è entrato con la faccia di chi sente la responsabilità. Porta sempre quel suo bip nero in tutti i club di New York se pensassi un po' di più a giocare in playoff. Sì, non solo, ma poi entra e chiede un TNT che a New York è anche reattonica. Oh, sono liberi di fare quello che vogliono, però in questo periodo dell'anno in Lea di Massima stare a casa a vedere la replica di J. Juncker sarebbe meglio, un'opinione personale. JR in transizione di Carroll con Tyson Chandler controlla la palla, anzi no, la palla sulla linea laterale. Non mi sembra il JR Smith di inizio stagione, anche lui, al di là di qualche problema fisico che possa avere, da quando ha ritirato quel premio di sesto uomo dell'anno è diventato un altro. Oh signore, mi ricordo una frase di George Carlin dopo una gara a quattro di playoff non esattamente straordinaria. Bello vedere l'essenza del gioco insultata davanti a me, JR. Non importa, non importa, magari nel quarto quarto le giocate per vincere sono le sue. Eccolo qua. Perché non hai scritto, JR, un libro sulla tua avventura in Cina? Il presidente della squadra che l'ha firmato lo ha chiamato nell'ufficio e gli ha detto JR, abbiamo bisogno di uno che faccia punti. Press, avete preso quello giusto. Clemens, ex assistente di Jackson, che allenava in Cina, diceva questo è tra 50 tutte le sere, ha fatto 37 di media, ma ha ritenuto inopportuno allenarsi tra un 37 e l'altro e il cinese ha cominciato a fare i rispetti. Gli cambiavano una macchina a settimana di lusso, ma non gli davano l'autista che in una città cinese può tornarti utile. E il JR è andato via di terza e ha detto non leggo una mazza qua nell'insegnazione stradale, ma andatevi l'autista. Tu allinei e tieni tre autista.